La Casa Bene Primario, questo è il titolo del convegno organizzato dal Presidente del Partito Socialista del Lazio, Oscar Tortosa. Tra le proposte presentate è quella di utilizzare tutti i fondi ex GESC alla disposizione, oltre 250 milioni di euro, per il rilancio delle edilizie sovvenzionate dell'housing sociale, come non consumando altro territorio ma utilizzando il dismesso. La Casa Come Bene Primario è un convegno organizzato dal PSI qui alla Regione Lazio, qual è lo scopo di questo convegno in un momento in cui c'è grandissima crisi e c'è sempre più bisogno di casa? Nasce quando nell'affermazione del nostro convegno il titolo è La Casa Bene Primario, ritorniamo a una visione socialista della società in cui la casa è al centro della vita dell'uomo. La Casa, intorno alla casa si costruisce il lavoro, si difende la salute. C'è una situazione esplosiva a Roma e nel Lazio. Allora come gruppo socialista della Regione, insieme al nostro Ministro per la Casa, che è Nencini, che è il segretario nazionale, abbiamo ritenuto di sensibilizzare la Regione, il Comune e il Governo su un tema così delicato. Le nuove povertà, questo è il concetto primario, che non possono, sono i famosi ceti medi, che non possono, non hanno i titoli per avere le case dell'ERP, ossia le case dell'ATER. Hanno un problema vero, che stanno continuando ad aumentare, per cui in questo nostro paese ci sono i nuovi ricchi, il 10% e ci sono le nuove povertà. Ma le nuove povertà hanno una necessità primaria, gli affitti sono aumentati, non si può pagare l'affitto. Io quando affermo che due camere e cucina a 100 celle costano 800-900 euro, significa che noi non diamo la possibilità di costruire una società più giusta. E qui ritorna quello che era la vecchia visione socialista, prima con Romita, poi con il Governo Fanfani, quando l'affitto non poteva superare un terzo del stipendio mensile di un dipendente. Noi diciamo che i tempi sono cambiati, ma non si può non pensare con i fondi disponibili che c'è presso la Cassa Depositi e Prestiti, che sono attorno a 250 milioni, che il Lazio per una serie di vicende non ha potuto utilizzare, ma credo che ormai, mi diceva l'assessore Refrigeri, stanno definendo il ruolo e la funzione nostra di accesso a questi fondi, che è una carenza nostra. Questo può permettere di realizzare case in housing sociale, senza utilizzare nuove aree, questo è il problema primario, ma utilizzando tutti i manufatti, anche pubblici, caserme, ospedali inutilizzati, fabbricati che sono rimasti così con lo scheletro e che sono veramente negativi e comunque altre aree che abbiamo a disposizione, questo può permetterci di costruire case a basso costo. All'incontro è intervenuto anche il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Presidente, la casa come bene primario, la richiesta del gruppo dei socialisti, quella di utilizzare i fondi GESCAL per realizzare housing sociale, anche in caserme e stabili pubblici? Beh, è giusta, è una grande intuizione. Quello che noi stiamo facendo è dotare, dare anche alle politiche per la casa, una regione che è in grado di mantenere le promesse. Non era così, può sembrare strano, ma perché è una regione indebitata e con, come era prima, 117 poltrone a gestire le politiche per la casa, era quasi impossibile. Quindi stiamo facendo pulizia, abbiamo cancellato il poltronificio, è in campo una riforma per l'atera unica e soprattutto stiamo lavorando con decine di milioni di euro per riprendere una stagione di investimenti. Sono temi complessi, però anche in questo il Lazio cambia. Non poteva mancare l'assessore alle politiche abitative della Regione Lazio, Fabio Refrigeri, ideatore della delibera sull'emergenza abitativa che, pur con tanti nei per quanto riguarda il mondo dell'abusivismo, mira a utilizzare quei fondi GESCAL per dare casa a chi non ne ha. Un convegno, quello organizzato dal PSI, per chiedere che la casa torni ad essere un bene primario. La proposta di Oscar Tortosa, consigliere regionale, è quella di utilizzare i fondi ex GESCAL per realizzare housing sociale senza consumare suolo, ma rivalutando ad esempio vecchie caserme e stabili pubblici. Sì, direi un'idea che non posso condividere in quanto già nella delibera di gennaio abbiamo sostanzialmente proprio indicato quello, quella del 14 gennaio, dove abbiamo nella più ampia iniziativa sull'emergenza abitativa abbiamo proprio inserito queste due cose, cioè l'utilizzo dei fondi GESCAL, i fondi di 257 milioni e come utilizzarli. Utilizzarli per l'acquisizione di ciò che è stato costruito o per rigenerazione urbana, utilizzando anche le opportunità che si possono offrire con fondi europei, rigenerazione urbana, politiche abitative, smart city, c'è anche un po' di capacità di cambiare in meglio quello che già c'è. Quindi credo che questa sia un'idea che incontra le politiche che abbiamo già finora svolto in assessorato e credo che la presenza anche del sottosegretario Lencini ci offra anche una possibilità di un confronto con il governo e mi auspico di un impulso che credo che in questa fase sulla casa ci giochiamo una grande partita, una partita che è di rimuovere l'economia di una regione ma anche quello di trovare un patto sociale importante perché è l'abitare uno dei temi sociali più sentiti credo dai nostri cittadini. Oggi dovrebbe concludersi in Consiglio regionale la discussione sul piano casa, quali le novità? Il piano casa sostanzialmente per quanto riguarda questa parte soprattutto dell'housing introduce un elemento importante il famoso 30% di possibilità destinata ad housing sociale e gli interventi e quindi io credo che questa sia una delle novità più importanti inerente al ragionamento di questa mattina. Per quanto riguarda invece l'edilizia sovvenzionata quali le idee che state mettendo in campo? Sull'edilizia sovvenzionata noi da questo punto di vista credo che oltre i fondi GESCAL e credo che dobbiamo anche, il tentativo che facciamo è mettere anche in campo azioni che siano da un lato di rallentare il disagio abitativo le richieste che facciamo al governo sono queste ragionare su quello che accade negli enti previdenziali far sì che ci sia sostanzialmente un allungamento di alcuni processi che potrebbero aumentare l'emergenza abitativa anche di famiglie che non conoscono neanche il tema che pensano di essere una situazione di agiatezza e di tranquillità su questo edificare un'iniziativa importante utilizzando anche fondi di cassa depositi e prestiti per far sì che sull'invenduta e sulla rigenerazione una parte importante sia un housing sociale rimodulato anche secondo iniziative che stiamo inserendo che sono quelle di un percentuale rispetto al reddito che credo sia l'idea più interessante perché garantisce una compatibilità della possibilità di pagare il canone di locazione